Tanti auguri dalla Federazione Italiana Cuochi ai lettori del mattino di Puglia e Basilicata. Buone feste ai lettori del mattino di Puglia e di Basilicata. Un caloroso augurio di buone feste e buon Natale ai tanti e numerosi lettori del mattino di Puglia e Basilicata con l'augurio di fare un grandissimo brindisi con i nostri grandi figli.